Raga sono stato donato a termine determinato per indicazione all'odio ma non dette da me Può essere pure una questione che o sono chi ha donato il beat perché è una questione di gente che donna il beat o uno che aveva droppato la n-word sono disperato perché ho un conto se è colpa mia ma se non è colpa mia questo è un banno Ragazze di vario provincia sono triste cerco una fan che mi faccia le coccole ne ho bisogno vi prego